E alla fine incidente fu, non è stato infatti purtroppo difficile che accadesse quello che per tre volte nelle ultime due settimane avevamo profetizzato, parlando dello stato di pericolosità della strada statale 166, meglio conosciuto come rettifilo di San Marzano, che collega i comuni di Atena Lucana e San Pietro Altanagro. Pericolosità dovuta all'erba alta che impediva la visuale a chi si immetteva sulla statale delle strade laterali. Ieri pomeriggio infatti un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, è avvenuto in prossimità dell'innesto della strada Fosso del Mulino. La visibilità infatti sia su questo tratto di strada che su molti alti presenti nel territorio dell'intero Vallo di Diano era praticamente impossibile in seguito all'ulteriore crescita dell'erba lungo i lati della strada. Erba che rendeva impossibile vedere per chi si immetteva sulla statale dalla strada secondaria l'arrivo di auto in transito, il rischio era quindi quello di mettersi sulla strada scontrandosi con altri veicoli, proprio come è successo ieri pomeriggio. Questa mattina però finalmente, come d'incanto, sono comparsi gli operai dell'ANAS per tagliare l'erba lungo la statale, operando così un servizio per gli automobilisti che fino a oggi sembrava così difficile da realizzare.